Ciao Gianfranco, con questo video certifichiamo la lavorazione eseguita, parliamo di un car tablet Ford Kuga e Ford C-Max andiamo in dimostrazione, siamo nella home, ovviamente abbiamo recuperato anche tutti i comandi della radio sottostante quando userai il climatizzatore ti darà le informazioni sul display abbiamo recuperato anche i comandi al volante gestione check veicolo abbiamo gestione audio e video tramite le USB qui siamo in audio e poi passiamo in video e poi possiamo entrare direttamente in tutte le app Android e possiamo fare una dimostrazione del funzionamento il solito DSP, processore sonoro, dove andiamo a impostare le impostazioni audio ricordiamo che tutti i nostri prodotti sono disponibili presso il nostro sito internet allo shop Augeelit qui abbiamo impostazioni veicolo a secondo degli optional della macchina possiamo andare a gestire le luci teggi cristalli insomma poi a secondo degli optional il car tablet li gestisce stessa cosa per quanto riguarda le informazioni velocità grazie a tutti Grazie. Come vedete nei comandi radio abbiamo anche la funzione cd e dvd perfettamente funzionanti, possiamo eseguire lo split screen, ti aspettiamo in negozio per le spiegazioni e soprattutto ti ringraziamo per aver avuto fiducia in noi, grazie e a presto.